Nel punto canto dell'Inferno ci troviamo nel secondo cerchio della Divina Commedia. In questo cerchio si trovano Dante e Vigilio, Paolo e Francesca e Minos. Qui i peccatori erano illusciviosi e la loro pena era che erano travolti in un vento incessante. Non porti grato l'immortale a questo viaggio voluto da Dio. Placa la tua rabbia e falla consumare dentro di lui. Maestro, dove siamo giunti? Qual è il peccato di questi spiriti dorenti, maestro? Dante, sono le anime di un ossidiosi. Il loro peccato è l'amore. Come la passione vi traversi la vita, così dopo la morte sono il valere del vento. Come è possibile? Che il sentimento così nobile e libero di me possa portare un buono femminale di esenza e sopranza come questo. Anch'io, tanto amato, anch'io mi sono lasciato portare via dalla passione. E allora, anch'io l'ho occupato di questi anni davanti. Attraverso le tenebre viene a far vista a noi poveri peccatori. Si raccontano la messa dell'amore e di morte. Oria è l'unico valore del cuore dei sedi figli. Feci modo proprio che il fratello di mio marito, Paolo Malatesta, si innamorasse di me fino a condurre ci condusse a morte. Come e quando quest'amore che vi condusse a morte? Stavamo leggendo un romanzo di Ginevra e Lancillotto che si stavano baciando. Il nostro sguardo si incrociò e ci baciamo. E dov'è questo tale giangiotto che vincisse Barbara? E il giangiotto ora è tra i dannati. Io e Paolo sono un po' uniti di vita e lo saremo anche in morte. Io e Paolo sono un po' uniti di vita.